La digitalizzazione ha un ruolo sempre più centrale nella crescita delle aziende e nell'evoluzione del mercato. Permette non solo di migliorare la comprensione dei cambiamenti sociali, ma anche di sviluppare delle soluzioni sostenibili che hanno da sempre determinato scelte importanti in Alfonsino. Alfonsino è in costante crescita, seguendo la scia del forte macro trend della digitalizzazione dei consumi. Sono tante le aziende di food delivery come Alfonsino e la digitalizzazione risulta un valore aggiunto soprattutto per le PMI, in un settore sempre più competitivo e segnato da continui cambiamenti. Noi di Alfonsino abbiamo bisogno di stare al passo con la crescita del nostro business e velocizzare le attività del nostro reparto recruiting risultava fondamentale, al fine di reclutare il maggior numero di rider nel minor tempo possibile, in modo da soddisfare il maggior numero di utenti. Siamo riusciti a risparmiare tantissimo tempo nel processo di repubiting e migliorare dal punto di vista qualitativo e quantitativo le performance dei nostri depubiter. La digitalizzazione è anche sinonimo di velocità e sostenibilità. Abbiamo eliminato totalmente la modalità cartacea dai contratti, migliorando la sostenibilità aziendale e riducendo nettamente l'impatto ambientale. Con la digitalizzazione si può essere più sostenibili, ottimizzando tempi e risorse, perché l'archiviazione di documenti cartaci, che ha sempre richiesto molto tempo e organizzazione, riduce anche la produttività. Inoltre, tutto ciò comporta attività macchinose di gestione, smistamento e manutenzione, impegnando tempo e soprattutto molto spazio. Alfonsino si fonda su radici digitali. Crediamo fortemente che la digitalizzazione possa segnare un punto di inizio per la crescita e l'evoluzione di tutte le realtà come la nostra, ed anche un nuovo inizio per aziende già consolidate, abituate a vecchi metodi spesso obsoleti. Grazie a tutti!